Allora eccoci qui, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Oggi parliamo, per quel poco si possa fare, della FIKA, SICA. Dunque, sul provvedimento da 400K, sì, chiaro che l'annuncio del nostro Presidente del Cazzo ha creato immediatamente una reazione nel sistema importante, tante le chiamate, le comunicazioni che sono arrivate sono disparate, però il decreto anzitutto non c'è e la liquidità in realtà non è liquidità, cioè non è che lo Stato prende 400 miliardi e li mette nel sistema produttivo, lo Stato dà delle garanzie che, qual è la situazione ad oggi, oggi sono nove cazzi, per, innanzitutto bisogna prendere il Cazzo, perché è l'ultimo Cazzo disponibile del nostro Presidente, quindi già mi chiedo, ma un'attività iniziata nel 2019, che non ha quindi ancora presentato la dichiarazione di re, può chiedere questi re, sembrerebbe sì, per esempio, e quindi aspettiamo 20 mila euro, se questa cifra è sotto il Cazzo, noi presentiamo la nostra domanda in banca, diciamo, dammi la FIKA, ecco, lo dammi la FIKA, quei 20 mila redditi sono garantiti al 100% da mento, garantito al 100% da mento, passando invece alle FIKA professioniste, di maggiori, una precisazione, il finanziamento fino a 25 FIKA è valido, sia per le imprese che per i professionisti, è l'unico caso in cui sono compresi i professionisti, passando al secondo Cazzo, per l'impresa con un fatturato superiore, fino a 3 mila milioni, virgola 2 mila milioni di euro, e fino a 499 milioni di pendenti, SON FATTO SON FATTO SON FATTO SON FATTO